Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video! Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video! Questo caso, come al solito, me l'avete suggerito voi sul Google Docs. La protagonista di questo caso si chiama Kay Parsons e vive in una comunità suburbana di Augusta, in Georgia, io precisamente a Grove Town, nella Contea di Columbia. Si trova all'incirca a metà strada tra le capitali dello stato della Georgia e della Carolina del Sud. È ai margini dell'area urbanizzata di Augusta, che è in via di sviluppo ed è su un'altura appena a nord-ovest di Fort Gordon, vicino all'estremità settentrionale del sottobaccino del fiume Middle Savanna. Kay Parsons, la protagonista di questo caso, è originaria della Pensilvania. È nata l'11 febbraio del 1968. Si è diplomata alla Laurel Highlands High School nel 1987 e ha sposato David, il suo fidanzato del liceo, quando era nell'esercito. Poi si sono trasferiti a Grove Town nel 2005 con loro figlio Derek, di 12 anni. David è un militare in congedo e si è trasferito perché lavora presso una base con un appalto. Per il suo lavoro, David è spesso in viaggio. Dall'altra parte abbiamo Kay. Kay ama suo figlio Derek tantissimo. Resta a casa per occuparsi di lui, non si perde mai una sua partita di baseball. Segue tutte le sue attività a scuola. Insomma, Kay è molto orgogliosa di suo figlio. Inoltre lavora in un centro fitoterapico della zona. Da qualche giorno il cartello Venesi è piantato nel giardino davanti a casa dei Parsons. La famiglia, a quanto pare, se ne vuole andare. Arriviamo alla mattina del 25 marzo 2009. Kay, che ha 41 anni, porta suo figlio a scuola, come sempre. Poi torna a casa col fine di attendere un operaio che sta facendo dei lavori in casa. Però, quando questo operaio giunge a casa sua, suona il campanello e non riceve risposta. L'uomo quindi prova ad andare sul retro della casa e trova il vetro di una porta finestre in frantumi. Quindi, chiama il 911. Mentre aspetta l'arrivo delle autorità, si imbatte in Michael Bowers, che vive proprio accanto alla casa dei Parsons con sua madre, Rebecca Sears, suo marito Tony e i suoi tre fratelli. Michael dice immediatamente a questo operaio che in casa sua è evidente sia entrato qualcuno. Un ladro. Prima che le autorità arrivino sul posto, Rebecca e l'altro fratello di Michael, ossia Christopher, si affrettano per andare davanti alla casa dei Parsons. Quando i detective entrano a casa dei Parsons quella mattina di marzo, Rebecca Sears li segue, come se poi avesse il diritto di entrare in casa di Kay. Le autorità però, appena entrano in casa, si guardano intorno. Notano parecchi schizzi di sangue, che con molta probabilità indicano che sia successo qualcosa di grave. Quindi mandano fuori casa Rebecca e seguono delle strisce di sangue che partono dal soggiorno e arrivano fino in garage, dove ahimè trovano Kay Parsons per terra in fin di vita. Nelle vicinanze sono presenti sia una mazza da baseball che un martello da carpentiere. È chiaro che Kay è stata colpita da questi due oggetti. Kay però non è morta, quindi i detective chiamano d'urgenza un'ambulanza che porta Kay all'ospedale. Una squadra di investigatori esamina la scena del crimine a casa dei Parsons e per loro è limpido, è chiaro che quella casa sia stata saccheggiata. Insomma, è stato commesso un furto con scasso. La porta finestra sul retro, come già detto, è completamente rotta. Tutti i cassetti della casa sono aperti e svuotati. Un'altra squadra di investigatori a questo punto va anche a casa dei Sears, che sembra sia stata ugualmente saccheggiata. La polizia inizialmente pensa che entrambe le famiglie sono state derubate e che Kay abbia avuto lo sfortunato tempismo di tornare a casa nel bel mezzo delle rapine. Ora però facciamo un passo indietro. Che rapporti ci sono? Che rapporti c'erano tra i Parsons e i Sears? Sono solo semplici vicini di casa? Ebbene, le due famiglie vivono l'una accanto all'altra da molto tempo, molti anni. E in realtà sono spesso usciti insieme. Nel 2009 Rebecca deve prendersi cura dei due figli più grandi avuti durante il suo primo matrimonio e tre figli più piccoli che ha avuto con suo marito, Tony Sears. Mentre Kay e David si prendono cura di loro figlio appena adolescente. Per anni Kay e Rebecca rimangono molto unite. Entrambe lavorano per la stessa azienda, ossia un'azienda di fitoterapia, di nome Hurling Hands. All'improvviso questa situazione però cambia drasticamente. La casa dei Parsons viene messa in vendita, mentre Kay si trasferisce in un altro ufficio della compagnia. Le due coppie, a quanto pare, smettono di frequentarsi e di uscire assieme. E intanto Rebecca Sears va in ospedale perché vuole conoscere le condizioni di Kay. In pratica non so se l'avete capito, ma Rebecca piace un sacco ficcare il naso. Poi capirete anche il perché. Il suo comportamento a questo punto accoglie alla sprovvista tutti gli investigatori, che ora analizzano le due scene del crimine con più attenzione. La casa dei Parsons ha un chiaro punto di ingresso che è stato utilizzato dai ladri, ossia la porta a finestra ridotta in frantumi. Mentre a casa dei Sears niente è stato danneggiato e niente è stato rubato. Gli investigatori sanno che è insolito che lo stesso ladro entri in due case vicine per di più di giorno. La stessa sera i detective vanno in ospedale per conoscere le condizioni di Kay, che ahimè sono critiche. Ormai è tenuta in vita solamente dalle macchine. Quando David, il marito di Kay, giunge in ospedale, la donna è ormai in stato vegetativo. David quindi prende la difficile decisione di staccare le macchine e lasciarla andare. Gli investigatori ovviamente mettono gli occhi su David, il marito di Kay. L'uomo descrive la sua famiglia come felice, lui e Kay si amavano molto. Gli inquirenti però devono assicurarsi che il dolore di David sia sincero, e non una maschera dietro cui nascondersi. David era in California per un viaggio di lavoro, mentre Kay era stata uccisa. Spiega ai detective che lui era solito chiamarla tutte le mattine, col fine di sentirla e salutarla prima che andasse a lavoro. Ma quella mattina del 25 marzo continuava a scattare la segreteria telefonica. Quindi David aveva aspettato circa 20 minuti, e poi aveva chiamato i vicini perché andassero a controllare che tutto fosse a posto. I detective pensano sia strano. Insomma, mentre sua moglie veniva aggredita in modo mortale, lui chiamava chiunque potesse conoscerla, come se volesse far sapere in giro che lui si trovava in California. Questo porta gli investigatori a pensare che David non era l'autore materiale del delitto, però poteva essere il mandante. Il marito della vittima quindi viene sospettato, e i detective passano a setaccio il quartiere, alla ricerca di altre possibili informazioni. Gli investigatori bussano a tutte le porte alla ricerca di un possibile testimone. Molti possiedono delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver filmato qualcosa. Ad un certo punto i detective interrogano una signora che abita non troppo lontana dalla scena del crimine. Le chiedono ovviamente se per caso ha notato qualcosa di strano la mattina in cui Kay è stata uccisa. La donna dice di aver visto un uomo che si allontanava dalla casa dei Parsons, incappucciato, verso le 8 e 30 del mattino. È possibile quindi che l'aggressore sia una persona che conosce bene il quartiere. Quindi i detective cercano di capire se qualche residente ha dei precedenti, e in effetti individuano un uomo di nome Ray Maloney. L'uomo ha dei precedenti per rapina con scasso e furto in casa. È sospettato sia per i suoi precedenti, che per l'avvicinanza alla casa dei Parsons. Gli investigatori a questo punto chiedono a Ray se può seguirli in centrale per un interrogatorio. Ray però per la mattina del 25 marzo ha un alibi. Era con la sua ragazza. Intanto arrivano i risultati dei test sui campioni prelevati dalla scena del crimine, ma sono di poca utilità. Infatti ogni goccia di sangue presente nella casa dei Parsons appartiene alla vittima. La pista del DNA al momento non porta risultati. Quindi gli investigatori provano a scoprire chi avesse accesso alla casa dei Parsons. Tra questi c'è l'uomo che per primo ha dato l'allarme, ossia Mitch Cossard. L'operaio è incaricato di fare i lavori in quella casa. Anche lui può essere sospettato fino a prova contraria. Quindi viene convocato in centrale per approfondire i suoi rapporti con la vittima. In realtà Mitch si rivela essere davvero un operaio. La mattina del 25 marzo è andato dai Parsons perché doveva sostituire la porta sul retro. Così aveva bussato alla porta principale senza ottenere risposta. Era andato sul retro della casa e aveva notato che il vetro della porta finestra era completamente rotto. Senza un muovente e con la feddina penale pulita, Mitch Cossard esce immediatamente dal registro dei sospettati. Gli investigatori a questo punto ricevono delle nuove informazioni. Infatti mentre Mitch, l'operaio, attendeva l'arrivo delle forze dell'ordine, aveva notato la presenza di Michael, il figlio maggiore di Rebecca Sears. Era seduto di fronte a casa sua e sembrava davvero molto preoccupato. Mitch quindi gli era andato incontro per parlargli e Michael gli aveva chiesto se per caso lavorava a casa dei Parsons. E poi aveva aggiunto che quella dietro di lui era casa sua. Era rientrato a casa e si era trovato davanti in vero e proprio caos. Quindi aveva chiamato sua madre che in quel momento stava tornando da lavoro. Mitch aveva detto a Michael che forse qualcuno era entrato anche a casa dei Parsons. Ecco perché aveva allertato la polizia. Questa situazione però sembra davvero strana. Quindi gli investigatori decidono di sentire nuovamente il figlio maggiore di Rebecca per capire cosa abbia fatto quella mattina. Gli investigatori gli chiedono se la mattina del 25 marzo, ossia la mattina in cui è stata uccisa Kay, lui era a lavoro. Michael fa lavori saltuari, piccoli impieghi senza continuità. Il ragazzo aveva detto a sua madre Rebecca che doveva andare da un amico con cui aveva un appuntamento a casa sua e che poi sarebbero andati a fare un lavoretto insieme. Una volta tornato a casa qualche ora dopo, Michael aveva capito immediatamente che qualcuno si era introdotto in casa sua. Si era reso conto del tentato furto e aveva chiamato sua madre. E questo è strano. In circostanze simili, un comportamento normale sarebbe quello di allertare la polizia perché c'è la possibilità, seppur remota, che il ladro sia ancora dentro casa. Insomma, gli investigatori insospettisce questa chiamata alla polizia che Michael non ha mai fatto. Lì insospettisce inoltre anche il comportamento della madre di Michael, ossia di Rebecca, che al posto di dire a Michael di allertare le forze dell'ordine, agisce a sua volta in modo sospetto. La donna infatti aveva detto al figlio di aspettarla. Sarebbe immediatamente partita per tornare a casa da lavoro e dentro mezz'ora massimo sarebbe arrivata. Questa storia non è assolutamente chiara, quindi gli investigatori, finalmente oserei dire, decidono di verificare la versione di Michael. Ricostruiscono tutti gli spostamenti che ha fatto la mattina del 25 marzo. Così scoprono che questi spostamenti non coincidono affatto con la testimonianza che Michael ha reso alla polizia. Per fugare ogni possibile dubbio, gli investigatori chiedono a Michael se per caso si è avvicinato alla casa dei Parsons quella mattina del 25 marzo. Il ragazzo nega, quindi gli investigatori gli chiedono se possono vedere le scarpe che indossava quella stessa mattina per verificare che non presentino tracce del sangue della vittima. Notano però incastrati nelle suole delle scarpe dei frammenti di vetro. Quei frammenti di vetro ovviamente fanno pensare agli investigatori la finestra rotta a casa dei Parsons. Ora è necessario sapere perché Michael ha sotto la suola delle scarpe dei frammenti di vetro se non si è mai avvicinato alla scena del crimine. Michael vedendosi messo alle strette cambia immediatamente versione dicendo che era spaventato. Quando aveva visto che qualcuno era entrato in casa sua, era corso a cercare i vicini, aveva anche guardato dalla finestra sul retro per vedere se per caso c'era qualcuno in casa e a quel punto aveva pestato i pezzi di vetro. È vero, Michael ha mentito agli investigatori, ma sfiga di averlo fatto perché non voleva che sua madre sapesse che non era andato a lavoro quella mattina. Michael infatti aveva detto a sua madre che doveva vedere un amico per un lavoro. Invece ora deve ammettere che era andato dal suo amico per passare la mattinata con lui e nient'altro. L'amico di Michael si chiama Lorenzo Fuller e gli investigatori vanno ad ascoltarlo in cerca di nuovi elementi. Lorenzo risulta schedato per possesso e cessione di sostanzine. Ed è stato ascoltato perché confermasse che Michael era veramente a casa con lui la mattina del 25 marzo. All'inizio Lorenzo sembra molto cauto, non dice tutto quello che dovrebbe, ma quando gli investigatori iniziano a fargli pressioni perché collabori, il ragazzo cede. Racconta che in realtà Michael si era presentato a casa sua per cercare la sostanza. Lorenzo ha un passato di dipendenze, ma si sta ripulendo. Ora gli investigatori si chiedono se Michael e Lorenzo per caso siano stati complici in qualcosa di molto più grave. Lorenzo è preso in serie a considerazione dagli investigatori, così come Michael perché a quanto pare sono due persone note per avere dei problemi con le sostanzine. Questo può creare un muovente perché magari quel furto gli serviva per procurarsi i soldi per acquistare la sostanza. Lorenzo in ogni caso continua a negare ogni coinvolgimento nei fatti che hanno portato alla morte di Kay. C'è da dire che dopo l'iniziale reticenza, Lorenzo collabora con i detective. Lascia che gli perquisiscano sia la casa che la macchina. Ma non emergono altre possibili prove, insomma i detective non trovano nulla di strano. Lorenzo sembra estraneo ai fatti, ma non si può dire lo stesso di Michael. I cui spostamenti la mattina del delitto sono provati da altrettante testimonianze. Diverse persone sostengono di averlo visto in giro nel quartiere. I detective quindi hanno appreso attraverso delle testimonianze che Michael è tornato a casa a piedi dopo aver passato la mattinata dal suo amico Lorenzo. Michael ha già cercato di fornire una versione di comodo ai detective. Quindi questi ultimi ovviamente cercano altre falle nella sua storia. Ma Michael non cambia nulla della sua versione. In assenza di prove indiziarie che lo colleghino al caso, gli investigatori si concentrano di nuovo sulle tracce genetiche trovate sulla scena del crimine. Come già detto, il sangue trovato in casa dei Parsons è sempre lo stesso, appartiene sempre alla vittima. Il punto è che tracce del suo sangue sono presenti anche a casa di Rebecca Sears. Quindi chi ha ucciso Kay si è poi spostato immediatamente nell'altra casa. È possibile che Michael sia arrivato ad uccidere la migliore amica di sua madre, ossia Kay, ma soprattutto perché l'ha fatto? A questo punto gli investigatori si rivolgono al fratello minore di Michael, ossia Christopher. Christopher ha 19 anni, ha una casa tutta sua. Spiega che sua madre gli ha trovato un impiego part-time al centro di fitoterapia dove lavora. E per inciso dove lavorava anche Kay. Christopher sa che suo fratello usa sostanze, ma non lo ritiene capace di commettere un omicidio di tale brutalità. È anche vero però che per il momento la polizia deve valutare tutte le ipotesi. 48 ore dopo l'aggressione mortale, la polizia non ha ancora prove concrete contro il principale sospettato, quindi l'indagine rischia di bloccarsi. Presto però questa storia avrà uno sviluppo imprevisto. Infatti Rebecca quando esce da lavoro viene sorpresa da un uomo armato, che le ordina di dargli tutti i soldi che ha dietro. Rebecca però rimane paralizzata dalla paura, non sa che fare, e quell'uomo le spara alla gamba, poi scappa. Rebecca successivamente dice di non ricordare molto bene il suo aggressore. Insomma si ricorda giusto l'altezza e ciò che indossava. Era vestito di nero, aveva una felpa con il cappuccio tirato su. Gli investigatori quindi ricordano che una vicina dei Parsons aveva visto un uomo con un cappuccio sempre tirato su allontanarsi in fretta la mattina dell'omicidio. I detective però non capiscono cosa stia succedendo a Rebecca. Insomma è strano, le sta capitando di tutto in così poco tempo? Forse c'è qualcosa che sfugge agli investigatori? La situazione è così tanto strana da fargli considerare diversi scenari. E a questo punto è necessario indagare sul posto di lavoro di entrambe le donne. Forse qualcuno le aveva preso di mira per qualche motivo? Forse c'era un conflitto latente che ancora non conoscevano? Gli investigatori quindi vanno il giorno seguente all'ospedale in cui è ricoverata Rebecca. E chiaramente ci vanno con molti più dubbi che certezze. Però finalmente hanno l'opportunità di parlare con il marito di Rebecca, Tony. È in questa circostanza che i detective scoprono che le famiglie coinvolte avevano legami molto più stretti di quanto sembrasse. Spesso giocavano a tennis insieme e le due famiglie avevano peraltro anche fatto diverse crociere insieme. Nella casa dei Sears l'atmosfera si stava lentamente guastando e solo di recente Tony e Rebecca in effetti avevano davvero toccato il fondo. È vero non hanno mai chiesto il divorzio, non si sono mai divisi ma in casa effettivamente vivevano come una coppia separata. Tony si svegliava molto presto e andava a lavoro per le 4 del mattino. Rebecca si svegliava verso le 6 e di base conduceva la sua vita senza suo marito a fianco. E quindi che è successo? Beh, Rebecca aveva trovato nella casa a fianco una spalla su cui piangere. Peccato che quella spalla non era la spalla della sua migliore amica Kay. E infatti esce ben presto fuori che Rebecca e David avevano una relazione extraconiugale che tra l'altro era andata avanti per mesi. Poi i due si erano lasciati nel febbraio del 2009 e Rebecca aveva trovato il coraggio di parlarne con suo marito. Ovviamente Tony, il marito di Rebecca, mica l'aveva presa bene questa notizia e ci mancherebbe altro. Però voleva in ugual modo che la famiglia rimanesse unita insomma. Ci teneva a rimanere con Rebecca. Tony spiega ai detective che nonostante la rabbia non avrebbe mai fatto del male a nessuno ma poi Tony che motivo avrebbe avuto di uccidere Kay? Tony era stato tradito così come Kay. Non aveva alcun motivo di uccidere Kay. Si trovava negli uffici della sua azienda sia la mattina dell'omicidio che la sera in cui la moglie era stata ferita. L'alibi di Tony viene verificato ed è chiaro che non aveva alcun motivo per prendersela con Kay. Le sue rivelazioni però permettono finalmente di creare un collegamento tra le due diverse scene del crimine. Ossia tra le due case. La relazione tra David e Rebecca dura sei mesi prima che entrambi decidano di chiuderla. Mentre Rebecca è in ospedale gli investigatori la vanno a interrogare. La donna spiega che la relazione tra lei e David in realtà è finita e aggiunge anche che era ben consapevole di star sbagliando. Il punto è che Rebecca si sentiva davvero sola. Alla fine in ogni caso come già vi ho detto aveva deciso di raccontare questo suo tradimento a Tony. E che cosa aveva fatto Tony? L'aveva detto a Kay. In questo modo quest'ultima non aveva più rivolto parola neanche per sbaglio a Rebecca. In pratica Kay non voleva più avere come vicina di casa Rebecca Sears. Non riusciva neanche a guardarla in faccia. Ecco perché aveva messo in vendita la casa. Rebecca dice agli investigatori di aver chiuso la relazione con David il 6 febbraio. Poi però precisa che in effetti il 24 marzo mentre David era in California per lavoro si sono scambiati dei messaggini espliciti. I detective controllano i messaggi che David e Rebecca si sono inviati in cui dicevano di amarsi ancora. Quindi è ovvio che ci sia ancora un coinvolgimento emotivo tra di loro. Rebecca a questo punto dice di non centrare assolutamente nulla con la morte di Kay. È vero ormai quest'ultima la disprezzava ma Rebecca le voleva ancora tanto bene. Mentre le tante bugie di Rebecca iniziano ad emergere una ad una gli investigatori vengono contattati con urgenza. L'uomo dall'altro capo del telefono dice ai detective che ha in linea una persona che sostiene di avere informazioni sull'omicidio di Kay Parsons. L'uomo in questione è il fratello di Rebecca Sears, si chiama Jerry e spiega ai detective che in effetti poco prima dell'omicidio di Kay Parsons sua sorella aveva fatto una richiesta a dir poco, insolita. La donna infatti aveva chiesto a suo fratello di rapire oppure uccidere Kay. Il fratello di Rebecca, Jerry, ha dei precedenti penali. Per questo motivo Rebecca credeva che potesse conoscere un sicario. Jerry sapeva e sa bene quanto si rischia a violare la legge. Infatti non voleva essere coinvolto a nessun livello nell'omicidio. Anche se la richiesta arrivava da sua sorella. C'è da dire che questa soffiata dà un grosso impulso all'indagine. Perché ora c'è un movente collegato all'adulterio. E forse Rebecca era direttamente coinvolta in una congiura per commettere quell'omicidio. È vero, Jerry non voleva rimanere coinvolto in quel piano. Ma quando scopre qual era il piano di riserva di Rebecca rimane sconvolto a dir poco. Jerry dice agli investigatori che Rebecca si era rivolta al suo figlio preferito, ossia Christopher. Appena Rebecca viene dimessa dall'ospedale, infatti, si deve presentare alla polizia con suo figlio Christopher per un interrogatorio formale. Christopher durante l'interrogatorio non dice una parola. Anche se il detective gli dice chiaramente queste parole. Sei qui perché crediamo che tu sia coinvolto nella morte di Kay Parsons. Il ragazzo risponde sempre allo stesso modo. Non so di cosa stia parlando. Il punto è che non sa che in quel momento sua madre è nella stanza accanto che dice agli investigatori. Ma se parlo, cosa ne sarà di Christopher? Non riesco a credere che mi abbia presa seriamente. Rebecca infatti spiega agli inquirenti che dopo aver confessato il tradimento a suo marito, aveva rincominciato a sentire David segretamente e a questo punto lo voleva tutto per sé. Aveva ripetuto più volte che si augurava che la moglie, Kay, sparisse per sempre. E gli aveva chiesto, come faccio a liberarmi di Kay del tutto, completamente? Rebecca dice agli investigatori, non so dove abbia preso il martello e onestamente credo sia stato lui. Ok, è chiaro che Rebecca stia confessando e il motivo è uno solo, salvarsi ad ogni costo. In pratica decide di buttare il figlio dal treno in corsa dicendo che aveva fatto tutto da solo equivocando le sue parole. Rebecca, è chiaro, cerca solo di tirarsi fuori dai guai. La cosa terribile è che è chiaro che non gliene freghi nulla di suo figlio. Ed è atroce tutto ciò, la comunità è molto scossa. Perché Rebecca ha sempre dimostrato di amare alla follia i suoi figli. Alla fine però si è scoperto che tiene più a se stessa e alla sua pellaccia. Nello stesso momento Christopher continua ad essere sotto interrogatorio. E persa la spavalderia iniziale il ragazzo capisce che sua madre lo sta scaricando, quindi cambia versione. Questa è una storia che parte dall'amore di un figlio per sua madre e dal desiderio spasmodico di renderla felice ad ogni costo. Infatti ora Christopher racconta la sua versione. Rebecca lo è andata a prendere alle 4 del mattino. Come già vi ho detto lui viveva già fuori casa. E sua madre Rebecca lo aveva portato a casa sua e gli aveva detto di nascondersi in casa. Lei avrebbe preparato la colazione e avrebbe portato Michael da un amico quella mattina. Quindi aveva ordinato a Christopher di andare ad aspettare Kay in casa sua. Appena lei fosse uscita con Michael. Una volta che tutti erano usciti di casa Christopher si era introdotto nella casa dei vicini. E aspettava dentro l'abitazione che la donna rientrasse. La donna ahimè è proprio Kay. Kay infatti era a casa e quando suo marito David aveva fatto la solita chiamata per sentirla, Christopher aveva colpito. A questo punto Kay era riuscita a fuggire verso il garage. Le mancava davvero poco per raggiungere l'uscita. Ma Christopher ahimè era riuscito a bloccarla prima. L'aveva colpita con una mazza da baseball e con un martello. E poi era fuggito tornando a casa sua. I detective avendo capito la situazione chiedono a Christopher se per caso era stato lui a sparare a sua madre alla gamba. Il ragazzo risponde che sì era stato lui ma c'era stato un errore. Una volta capito che la polizia sospettava di lei Rebecca, aveva cercato di confondere le acque passando lei stessa come vittima. Christopher avrebbe dovuto sparare per terra. Poi lei avrebbe chiamato la polizia dicendo che era stata rapinata da un misterioso aggressore. E invece Christopher le aveva sparato alla gamba. Aveva sbagliato Mira. I detective a questo punto arrestano sia Rebecca che suo figlio Christopher. Madre e figlio sono in attesa di un processo in cui rischiano la pena di morte. Infatti il pubblico ministero aveva deciso di chiedere la pena di morte sia per Rebecca che per Christopher. E secondo la legge della Georgia in questi casi è necessario fare dei processi separati. Ovviamente c'è il tentativo del pubblico ministero di mettere insieme le prove necessarie per due diversi casi di omicidio capitale. Oltre ovviamente a un cambio di avvocati difensori per prepararsi al processo. Dunque a molti sembrava che questo processo stesse richiedendo un po' troppo tempo. Tony e una delle sorelle di Rebecca hanno rilasciato un'intervista che trovo piuttosto sorprendente. Ancora prima del processo entrambi sostenevano che Rebecca e Christopher fossero innocenti e che le autorità avessero permesso al vero assassino di rimanere in libertà perché si stavano concentrando con le indagini nella direzione sbagliata. Vi ricordo che queste dichiarazioni sono state fatte anche senza essere a conoscenza dell'esito finale di questo caso. La domanda che mi pongo è come facevano a sostenere la loro innocenza con così tanta sicurezza? Nel maggio del 2009 sia Rebecca che suo figlio Christopher vengono accusati di omicidio e di rapina. La coppia inizialmente si dichiara non colpevole. L'accusa è convinta che Rebecca sia la mente dietro questo assurdo complotto omicida. E in effetti per evitare la pena di morte nel 2012 sia Christopher che Rebecca cambiano le loro dichiarazioni di colpevolezza e sia la madre che il figlio patteggiano con l'accusa. Nel maggio 2012 dunque Rebecca si dichiara colpevole di omicidio, rapina a mano armata e furto con scasso. Viene condannata all'ergastolo senza possibilità di condizionale per l'omicidio, ad un ennesimo ergastolo per la rapina a mano armata e a vent'anni per furto con scasso, tutti da scontare consecutivamente. Anche Christopher viene condannato all'ergastolo senza possibilità di condizionale. Al momento della sentenza il procuratore distrettuale dichiara francamente è uno degli omicidi più macabri che abbia mai visto. Rebecca è finita per rinchiudere a vita in una cella uno dei suoi figli solo e soltanto per i suoi interessi. Chiaramente si era instaurato un bizzarro rapporto di dipendenza tra madre e figlio. Quel ragazzo ha scoperto troppo tardi a sue spese che sua madre era una delle creature più malvagie e diaboliche mai esistite. Inoltre ci sono degli sviluppi. David Parsons ha deciso di non vendere la casa che condivideva con Kay. Si è risposato mentre suo figlio Derek stava frequentando il college. Per tutto il tempo si è tenuto ben lontano dai riflettori, anche se a quanto pare ha collaborato con le autorità nelle indagini. Ha assistito anche alla sentenza ma è rimasto sempre lontano dai media. D'altro canto sia lui che Kay sono sempre state delle persone riservate. Infatti in pochi erano a conoscenza del motivo per cui la casa era in vendita. Ovviamente David ha dovuto affrontare la verità, ha avuto una relazione extracognugale con Rebecca e probabilmente ci sono in giro persone ancora oggi convinte che potrebbe essere coinvolto. Inoltre ad un certo punto delle indagini i detective hanno scoperto che Michael Bowes era stato licenziato poco prima dal luogo di lavoro di sua madre per appropriazione indebita di denaro. Se si scava un po' più a fondo si scopre ben presto che non era stato Michael a rubare quei soldi, ma sua madre, ossia Rebecca Sears ovviamente. Rebecca aveva davvero fatto di tutto per far credere al lavoro che quei soldi gli avesse rubati Michael, regandoli in ginocchio di non sporgere denuncia. Quindi, alla fine dei conti, Rebecca non ha incastrato solo Christopher, ma ha incastrato anche suo figlio Michael. Grazie a Dio è emersa anche questa situazione, dimostrando quanto Rebecca fosse egoista. Quella donna pensava solo a se stessa e ai propri comodi. Voleva stare con David e per questo ha manipolato suo figlio Christopher perché commettesse quel crimine agghiacciante al posto suo. Scusatemi, eh. Ma che situazione spregevole. Io sono davvero senza parole. Vi giuro che non riuscirò mai a comprendere queste donne, queste madri. Non è il primo caso che ho trattato su questa falsa riga, ma ogni volta io rimango sconvolta. Tu, madre, come puoi incolpare tuo figlio di un crimine che non ha commesso o convincerlo a commettere un omicidio, santo cielo? Questa situazione, per quanto mi riguarda, è assurda. Ma questo caso è assurdo perché io davvero non riesco a concepire in che modo una madre possa fare questo a suo figlio. Non ci riesco, è più forte di me. Detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questo caso con un commento qua sotto. Sappiate che vi leggo sempre tutti. Nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto... Prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici.